Se anche tu vuoi rasare il contorno della barba, questo è il video che fa per te. Come prima cosa scelgo la lametta adatta alla mia tipologia di pelle. La vado successivamente a spezzare in due, proprio per permetterne l'inserimento all'interno dello chavette. Dopo aver tamponato la zona da radere con un panno caldo, vado ad applicare successivamente un gel da rasatura. Questo, essendo trasparente, permette di vedere meglio quello che sto facendo. Parto a radere il contorno della barba, cercando di mantenere una linea più costante possibile. In questo frangente bisogna dare molto cauti perché abbassare la linea e rovinare mesi o anni di lavoro è un attimo. Successivamente passo alla definizione del baffo, eliminando tutti quei peletti che si vanno appunto a creare intorno. Per essere ancora più sicuro e preciso, mi aiuto con un pettine, andando così a creare una linea immaginaria che collega orecchio e labbro inferiore. Già che ci sono, vado ad eliminare anche le sopracciglia nella zona centrale. Una volta terminata la fase di rasatura, questa dovrebbe essere la situazione in cui ci troviamo e quindi bisogna andare ad applicare un after shave, quindi un dopo barba. Personalmente vado ad applicare questa soluzione che, essendo anche una crema anti-aging, racchiude appunto acido ialuronico, quest'ultimo fondamentale per il mantenimento della tonicità della pelle. Questo è il risultato finale, io ti chiedo di farmi sapere cosa ne pensi nei commenti.